Meno di un mese fa era stata pubblicata la classifica sulla qualità della vita nelle città italiane, frutto della ricerca realizzata da Italia Oggi in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Una classifica dal sapore amaro che aveva visto il capologo fiorentino perdere ben 22 posizioni, passando nell'arco di un solo anno dal ventiseiesimo al quarantottesimo posto. Oggi poi, uscita a distanza di due settimane, l'attesa indagine annuale che il sole 24 ore realizza ormai da vent'anni, tesa a misurare la vivibilità delle province italiane. Il risultato raffigura un'Italia letteralmente spaccata in due, con la prima parte della classifica dominata dalle città del centro-nord fino a scendere nella parte più bassa occupata dal meridione. Una complessa indagine, dunque, che premia ancora una volta una città del nord. È infatti a osta al top della classifica, seguita sul podio da Milano e Trento. Fanalino di coda delle 110 province italiane è invece Vibo Valencia. Per quanto riguarda le province toscane, esse oscillano dall'undicesimo posizione di Siena, che perde due posizioni rispetto al 2015, alla sessantunesima occupata da Pistoia. La città toscana a guadagnare più terreno è Livorno. Se l'anno scorso era risultata ventisettesima, quest'anno è salita fino alla quattordicesima posizione, avanzando di ben 13 posti, ma il capologo fiorentino che entra nella top ten piazzandosi al sesto posto, a differenza del quarantottesimo della classifica d'Italia oggi. Firenze totalizza infatti un prestigioso punteggio grazie alla quinta posizione occupata nella voce ambiente e servizi e soprattutto grazie al secondo posto occupato nel settore cultura a tempo libero e partecipazione, peccando tuttavia per quanto riguarda la sicurezza cittadina, piazzandosi solo al novantatresimo posto. Firenze, che nonostante tutto perde due posizioni allontanandosi dal podio, vola per il turismo dal record, confermandosi capitale della cultura. A conclusione del progetto lavoro sicuro promosso dalla regione toscana e che prevedeva una serie di controlli nelle realtà del territorio, il presidente Enrico Rossi ha visitato l'azienda Borse e Borse a San Donnino nel comune di Campi Bisenzio. Insieme a lui il console generale della Repubblica Popolare Cinese Wang Fuguo. Molte aziende in conseguenza, mi pare circa l'80% si è messo in regola perché poi una seconda visita ha dimostrato che erano in regola. Il progetto si sta esaurendo ma noi lo continueremo. La legalità si può fare, la legalità può anche essere fonte di giustizia, di lavoro, di dignità per tutti come appunto questa fabbrica sta dimostrando. Siamo 160 per ora, il progetto 2017 saremo su 200. Difficoltà sì, all'inizio sì, tante. Poi abbiamo le persone, abbiamo diviso i compiti, abbiamo una persona apposta qui per la sicurezza. Ci deve essere assoluto rispetto delle norme e quindi della legalità ma al tempo stesso bisogna creare quei circuiti virtuosi che permettono di valorizzare le esperienze positive. Come è appunto la storia dell'azienda Borse e Borse di Fo dove c'è una prospettiva di sviluppare non soltanto l'azienda come in termini di commesse e quindi lavoratori ad assumere ma anche di sviluppare tutti quei percorsi che possono appunto aumentare per il circuito virtuoso. Quindi creare un asilo nido interno, quindi creare quei percorsi che prevedono una possibilità di scolarizzazione e quindi di insegnamento della lingua italiana alle persone non di nazionalità italiana che lavorano all'interno dell'azienda e quindi mi sembra davvero, mi sembrava e ci sembrava una bella storia da raccontare. Per questo abbiamo lavorato perché ci fosse questo incontro tra le varie istituzioni all'interno di questa azienda che può rappresentare davvero un modello da prendere ad esempio. Le buone notizie sulla sanità in Toscana in 400 pagine sono quelle raccolte nel volume La buona sanità realizzato dalla regione toscana e presentato nella sede della presidenza in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze dall'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Il libro mette insieme, come in un'antologia, una selezione degli articoli pubblicati dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2016, incentrati sui fatti positivi che riguardano il mondo della salute e del welfare in Toscana. Vignetta di staino in copertina e all'interno quattro sezioni contraddistinte da colori diversi dedicate a salute, sociale, sport e alle lettere inviate dai cittadini per parlare delle proprie esperienze dirette. È un modo per porre l'attenzione non solo sulle notizie negative che sono facilmente visibili naturalmente ma anche sulle tante notizie positive che la stampa dà, sulle quali forse si pone meno attenzione perché si ritengono cose normali, fare quello che si deve fare. La presentazione del volume a cui erano presenti anche i rappresentanti dell'ordine dei medici e dell'ordine dei giornalisti è stata anche l'occasione per annunciare per il 2017 il premio giornalistico destinato ai migliori articoli di argomento sanitario usciti su carta stampata, web, radio e tv.